Ciao a tutti ragazzi siamo in un nuovo video, oggi siamo su 1000 sentiti Oggi siamo in una cosa con Nerf, ma non è la dimostrazione di ieri E' soltanto questo, come vedete, è la mia sedia a rotelle E' soltanto che ci sono degli omini per fare una battle E raga vi faccio vedere come lo configo, solo che devo trovare una posizione migliore Raga, va bene, guardate, piglio questo, piglio il colpo Però se sentite un rumore a mia madre che urlava nel mio fratello, così Non sto sparando al telefono, eh, non è andato Secondo, eh, i colpi vanno veloci, lo so Dovrebbe fare in fretta Oh oh, ha svolazzato il montello Eh no, ne è andato Riproviamo Raga, riproviamo E' di nuovo svolazzato, ragazzi Proviamo ad avvicinarci No, però si è fermato vicino alla telecamera E dai Facciamo Tre Vedo tre Si è spostato, credo uno e cade quello di sinistra Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere A posto di questo Raga Mettiamo il telefono E raga Con questo No Ah si E' caduto raga Ora 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 Raccogliamo i colpi E proviamo con l'altro Raga Ecco Questo E' per L'abatto Raga Ora Vedo Vedo No Questo non vale perché Ho mosso la sedia Quasi Quasi Però Sono in questo punto Ma non sono dietro Sono Delle piastrelle Sono Uno Due Sì Due piastrelle Sono Quasi Oh Davanti al decano Quindi vale come tre E no Riproviamo No 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 Ho l'ultimo colpo E poi finisce il video Perché poi Io Devo andare a preparare Non vale Perché poi Devo preparare Tutto Per domenica Che Non ve l'ho detto E' mio fratello raga Che? Chi sta chiamando Teppe dov'è? Dov'è? E' mio fratello Ma dove vedi? E' raga E' come vi stavo dicendo Ma che c'è? E' mio fratello Sempre Ma dov'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Ma che c'è? Raga Ci siamo liberati Di mio fratello Oh ma che vuoi mettere? E' sempre mio fratello E' raga E' raga E' Mi stavo dicendo che io Sa Volevo dire domenica E' raga Dopodomani Sempre il mio fratello Che va per le macchie Ah scemo Se il cane venne di qua E scudate Se il cane venne di qua Scusate Per il mio fratello Scusate 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 un secondo Raga Vi stavo dicendo Che Domenica Io Ehm Il mercatino Farò il mercatino Domenica E quindi Finisce Questo video Ehm Faremo Prepareremo Tutto per il mercatino Io e mio fratello Ehm Poi farò anche un Un video Di come Come Finito Il mercatino Eh? Continuiamo Però col video Ragazzi Scusate Stava per cadere Ragazzi Vediamo In faccia eh Quasi Ne ho Altri due Ancora uno Ancora uno Ancora uno Ancora uno E poi finisce il video Ragazzi Questo è troppo indistruttibile Non ce l'ho fatta A buttarlo giù Però il video Finisce qui Ragazzi È stato un piacere Farlo Per voi Questo video Con i NARF Come ieri Guardate che bella la mia camera Ehm Ragazzi Ci vediamo domani Al prossimo video Però lasciate Come al solito Pollice in su Un bel commento E qualche iscrizione Ci vediamo Al prossimo video Uuuuuuuu